Coldiretti e Comune di Foggia un connubio che funziona dopo l'iniziativa di Campagna Amica ecco il mercato a chilometro zero promosso dall'assessorato alle attività economiche in collaborazione con l'organizzazione agricola. La manifestazione ha lo scopo di valorizzare e promuovere le produzioni locali Giuseppe De Filippo, presidente Coldiretti Foggia. L'obiettivo è sensibilizzare sempre 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 l'opinione pubblica perché l'etichettatura del latte prima e l'etichettatura della pasta che è in dirittura di arrivo speriamo a breve facciano sì che perlomeno il consumatore sia sempre più cosciente di quello che mangia. Noi daremo tutto l'apporto possibile soprattutto perché in questi anni fortunatamente l'alimentazione e il cibo ha subito un processo di valorizzazione enorme a tutti i livelli forse a volte anche un po' modaiolo, un po' anche esagerato ma noi in questa partita vogliamo giocare il nostro ruolo. Il Comune di Foggia ha mostrato in questi anni di amministrazione di essere molto sensibile a questi temi e ci ha concesso devo dire anche molto spazio. Questa mattina conferenza stampa per illustrare i contenuti dell'iniziativa che partirà il prossimo fine settimana con gli stand di Coldiretti dove poter acquistare prodotti a chilometro zero. Claudio Amorese è assessore alle attività economiche. Credo sia andare nella direzione dell'innovazione e della garanzia di una tracciabilità del prodotto sicuro e anche di dare attenzione agli operatori che lavorano, si sacrificano, pagano le tasse e la Coldiretti sta andando in questa direzione quindi questo accordo che abbiamo stipulato con loro è proprio per una forma anche di meritocrazia. Un modo originale anche per combattere l'abusivismo. Assolutamente sì. Noi nel documento strategico del commercio abbiamo previsto la terza settimana di ogni mese in via Duomo il mercatino a chilometro zero. È evidente che questo non può fare il paio con l'abusivismo commerciale. A maggior ragione gli operatori della Coldiretti, i loro soci ma anche tutti coloro che lavorano nel solco della filiera corta devono avere una marcia in più e le istituzioni lo devono riconoscere.